Compra a merce rubata per rivenderla nel suo paese, corriere denunciato dalla polizia stradale. L'uomo, un cinquantenne di origine rumena, è stato fermato intorno alle 17 di ieri da una pattuglia della polizia per un controllo al casello di Arezzo lungo l'autosole. Era alla guida di un mezzo pesante con targa italiana ed è apparso subito nervoso e agitato nonostante la regolarità dei documenti. Gli agenti della sottosezione di battifolle hanno continuato a controllare sul lettino all'interno della cabina di guida, hanno trovato in bella vista 46 pacchetti contenenti telefonini e piccoli elettrodomestici di varia natura, ancora confezionati all'interno delle loro scatole originali, risultati rubati ai danni della nota azienda di e-commerce Amazon. L'uomo ha quindi ammesso che la merce, per un valore stimato di oltre 3.000 euro, l'aveva acquistata per 400 avendo l'intenzione di rivenderla una volta rientrato in Romania. Per i cinquantenne è scattata la denuncia, per ricettazione la merce è stata sequestrata.